Oggi per Matteo Cicerchia, il 27enne fanese accusato di tentato omicidio nei confronti della sua ex convivente Elisa Furlani, è arrivato il momento del confronto con la legge. Dopo la violenta aggressione del giorno di Pasqueta, dove ha tentato di accoltellarla e strangolarla e con l'intento poi, a giochi fatti, di darsi fuoco con una lattina di benzina ed un accendigas che aveva portato con sé. L'udienza di convalida è avvenuta nella casa circondariale di Villa Fastigi a Pesaro, dove Cicerchia è detenuto in regime di isolamento e controllato a vista per il pericolo di altri gesti autolesivi. Alle 9.30 di questa mattina il giudice Giacomo Gasparini ha varcato il cancello del carcere e dalle 9.45 è iniziato l'interrogatorio di garanzia alla presenza del suo avvocato, Giovanni Occiani, che lo assiste assieme al collega Roberto Pierelli. Durato circa un'ora il colloquio durante il quale Matteo Cicerchia ha ripercorso con lucidità ogni frangente di quella tragica giornata di lunedì scorso. Quello che ha fatto certamente l'ha fatto volontariamente e l'ha fatto coscientemente. Qui in realtà una vera razio non c'è dietro perché c'è un disagio di una separazione che lui probabilmente non ha mai digerito, ansie, stati di preoccupazione, disturbi mentali che lo hanno in qualche modo perseguitato da questa separazione a questa parte. Ne sono passati quasi cinque anni, quindi un lungo periodo di tempo che per probabilmente delle banalità, delle discussioni avvenute peraltro anche in maniera del tutto serena, non ci sono stati litigi di nessun tipo, anzi una situazione serena, avvenuti con la compagna che hanno probabilmente rinfocolato in lui un qualcosa che stava a comando da tanto tempo. Probabilmente, ripeto, non andiamo dicendo da un po', ci sono dei problemi patologici a livello psichiatrico che probabilmente sempre questo tipo di separazione, questo rapporto andato male hanno generato in lui e che non sono stati affrontati o non sono stati sottovalutati, adesso io non lo so perché in realtà poi il percorso che lui ha seguito durante questo periodo di preciso non lo so, che hanno determinato un comportamento irrazionale. Io credo che emerge da questa vicenda che ci sia un carnefice nei fatti ma nelle sostanze siano tutte vittime in questa storia, vittime la bambina sicuramente, vittime la compagna, ma credo che anche lui sia una vittima di tutta questa vicenda, che abbia bisogno di aiuto, è finita questa udienza con la nostra richiesta di perizia psicatica che formalizzeremo con una richiesta di incidente probatorio, che non ha le finalità, come pensa molta gente, di speculazione processuale per cercare di ottenere delle scorciatoie eccetera. Qui ha una finalità di recupero di questo ragazzo, questo ragazzo è un ragazzo di 27 anni, se è vero, come qualcuno spesso ne abusa, ma in realtà lo dice la Costituzione, che la pena deve avere una funzione rieducativa, questo è uno dei casi tipici in cui noi dobbiamo cercare di utilizzare la pena prevista nel nostro codice penale per rieducare e per recuperare un ragazzo di 27 anni.